all'interno di uno studio di una radio il primo impatto è stato veramente stupendo puoi vedere tutti i macchinari che io non vedo dal vivo non lo vedo dal vivo ma li vedo tramite eh? vabbè scusate il partinamento ma ci mancherebbe l'emozione alla fine è quella che gioca un ruolo veramente importante nel frattempo io devo salutare la nostra super bionda che è appena tornata, la sassa io non posso stare senza di lei in quelli del weekend mi stai già abbandonando no, è a telefono, vabbè, noi lascitevamo più tardi noi invece sai cosa facciamo Luca? andiamo ad ascoltarci, intanto i primi messaggi vocali che stanno arrivando qui sul nostro numero whatsapp al 3337125287 andiamo a vedere un attimino perché ho visto che già c'è la nostra Stefania da Osta che manda un messaggio buon pomeriggio a Osta l'ascolto ciao 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 la Stefi da Osta ciao Stefi mamma mia che voce chiamami stanotte mi rispondo all'89925 dopo la mezzanotte ovviamente poi non so se ovviamente riuscirete a trovare anche il telefono acceso perché penso che prima di mezzanotte purtroppo crollerò direttamente ma qua abbiamo i nostri vocali della nostra Angelina Trenser ciao Angelina ti vogliamo bene sentiamo il messaggio successivo perché è sempre un secondo messaggio vediamo un attimino eh beh qua iniziano già ad arrivare le prime dediche al nostro ospite cioè ragazzo ma cosa ci stai combinando cioè oggi messaggi da donne sono donne cioè donne scriveteci perché noi qua abbiamo il posso dire il nostro hot ormai sei l'ospite hot oggi sei praticamente sono un ospite normale beh io direi proprio di sì alla fine perché sì caspita arrivi qua circondato da donne ti scrivono donne ti mandano messaggi vocali donne cioè spiegami un attimo non è mai successo nella storia di quelli del weekend ma spero che poi ci vediamo degli altri altri messaggi di altre donne ma vogliamo arrivare da qua alle 18 andiamo avanti nel frattempo ad ascoltare ancora un po' di musica? certo ok perché adesso è in arrivo il nostro ospite il DJ Luca Massimo Bravilla e questo è il suo DJ set buona scolto